Avvicinare il diabetologo al proprio paziente è fattore critico di successo e le nuove tecnologie in questo senso possono giocare un ruolo centrale, consentendo di superare alcuni ostacoli tipici della gestione di una patologia così complessa e ad elevata prevalenza come il diabete. A dirlo il professor Andrea Lenzi, ordinario di endocrinologia all'Università Sapienza di Roma, intervenendo al Dialogue Meeting Web promosso dalla rivista di politica sanitaria Italian Health Policy Brief. Al centro dell'incontro in particolare i nuovi sistemi che consentono di misurare i livelli glicemici in continuo e a distanza, semplificando non poco la vita dei pazienti, che devono controllarli più volte nel corso della giornata. Tali strumenti, in grado di migliorare l'aderenza terapeutica, la qualità di vita dei pazienti, ma anche di contenere i costi di gestione della patologia, di recente sono stati anche oggetto di un excerpt paper che ha coinvolto i massimi esperti della diabetologia e dell'endocrinologia nazionale. I pazienti diabetici vivono una condizione di forte disagio che impatta fortemente sulla qualità della loro vita, nel timore di essere esposti a crisi ipoglicemiche che possono comportare anche urgenti ricoveri ospedalieri, ha spiegato l'INA delle Monache, consigliera nazionale della Federazione Associazione Nazionale Diabetici. Quindi è fondamentale facilitare l'accesso a nuove tecnologie che semplifichino le metodologie di controllo dei livelli glicemici, assicurino maggiore aderenza alle terapie e non interferiscano con la quotidianità. Nel corso del meeting il tema del monitoraggio in remoto e in continuo dei livelli glicemici è stato affrontato nella logica dell'efficientamento dei servizi sanitari, che dovrà, hanno concordato gli esperti, sempre più poggiare sul pilastro della telemedicina, ma che non potrà affermarsi se verranno meno le necessarie scelte di politica sanitaria e se non saranno superate le disomogenità assistenziali che ancora caratterizzano i diversi servizi sanitari regionali. Guardo con estremo interesse al tema delle nuove tecnologie, ha commentato l'onorevole Roberto Pella, presidente dell'Intergruppo parlamentare Obesità e Diabete, come ad un segmento importante del nuovo orizzonte della telemedicina, cui tutti dobbiamo guardare con grande attenzione e crescente impegno per assicurare quell'equità assistenziale che è doveroso perseguire. Secondo la vicepresidente della Commissione Igiene e Sanità della Camera, Rossana Boldi, le scelte politiche in sanità devono infine mirare anche a rendere la vita dei pazienti il più normale possibile e le nuove tecnologie, anche in questa logica, possono avere un ruolo centrale. Gli eventuali maggiori costi che a queste possono essere associati vanno quindi considerati con capacità prospettiche, ha concluso.